Una partita da vincere che invece termina con zero punti raccolti e un bel gruzzolo di errori su cui ragionare. Dopo la battuta d'arresto patita una settimana fa con la capolista cade ancora la promobol e questa volta lo fa tra le mure amiche contro C9 Arcoriva. Nella sfida con le trentine al netto di parziali piuttosto tirati e del tentativo delle biancorosse di riaprire la gara sfiorando la possibilità di portarla quanto meno al tie break pesano e non poco i tanti errori che la Sanitars Gussago ha commesso nel corso del match. Solo in attacco sono stati 21 quelli registrati che uniti a nove imbattute e a quattro in ricezione danno la misura di quanto abbiano influito sull'economia generale della gara. Questa aperta con la promobol schierata con malvicini regia e susi opposto piantoni e basalari alla centro le bande salvetti e bugliatti e bertoletti libero. Nelle sue prime battute è segnata dall'alternanza ai punti dei due sestetti bravi a replicare colpo su colpo. Poi nella metà campo delle tigri cominciano le imprecisioni buone a far allontanare le avversarie 8 a 11 ma pure a indurre coach Nibbio a chiamare il tempo. La mossa è buona perché le sue ragazze non solo recuperano terreno ma superano anche arco sul parziale di 17-16 e poi con le ospiti alimentano un punto a punto che segna tutta l'ultima parte del set. Gioco forza servono i vantaggi per assegnare quest'ultimo e a spuntarla è arco che chiude 25-27. Meno incerto invece l'esito della seconda frazione di gara che la Sanitars Gussago affronta mescolando un po' le carte in banda con l'inserimento di Migliojkovic e Zampedri. A onore del vero anche in questo frangente un certo equilibrio in campo si mantiene anche se sono le trentine a tirare nel punteggio. Sotto 10-12 coach Nibbio cambia fuori Zampedri e Migliojkovic dentro Salvetti e Buiatti ma la Promobol tocca ancora il compito di inseguire e quando il pareggio sembra ormai a portata di mano grazie a un muro di Malvicini che segna il meno 1-16-17 ecco che sono di nuovo gli errori a far scivolare indietro e a dare ad arco la spinta giusta per fare un balzo sul 19-23 quindi chiudere in tranquillità sul 20-25. Con le ospiti avanti 2-0 le Tigri provano a cambiare l'esito del finale con un parziale generoso segnato da buone rimonte. La prima c'è già nelle battute iniziali quando la C9 scappa sul 7-3 e coach Nibbio che già aveva richiamato Buiatti per inserire Sandrini affida la regia Conti che rileva Malvicini. Le Trentine infatti riescono a mantenersi a distanza ancora per qualche giro di lancette 9-5 ma poi subiscono il ritorno della Sanitars che si porta con il fiato sul collo 8-10 quindi agguanta il pareggio 12-12 e poi supera con una bomba di salvetti sul 13-12. È l'innesco giusto per un piccolo strappo che vale il più 3 17-14 ma non sufficiente a smorzare l'impeto delle ospiti che riacciuffano le biancorossie a quota 18 così il finale di set è ancora spalla a spalla. In questo caso ad avere la meglio sono le padrone di casa che riaprono la contesa chiudendo sul 25-23. in questo caso è un'esplosione. Grazie!